Stiamo facendo carol di canti natalizie e facciamo il coro per noi, per aiutare noi attori. Io ho chiesto le mie canzoni di Natale, ne ho fatto nel gruppo, ho fatto nel Christmas il Valerio. Stiamo facendo carol di canti natalizie e facciamo il coro per noi, per aiutare noi attori. Nel pomeriggio facciamo gli auguri di Natale perché vogliamo essere più presenti possibili nella realtà quotidiana dei consensi. I ragazzi del Vegliero Onlus hanno emozionato il sabato e la domenica pomeriggio del centro cittadino. Si sono esibiti nel loro Christmas car sotto le volte della Rengari. Noi lavorando con questi ragazzi con disabilità di vario genere cerchiamo di portare avanti un progetto che veda l'autonomia e l'indipendenza di questi ragazzi, una crescita in questo senso. Facciamo questa manifestazione per farci conoscere, per portare in piazza la nostra realtà, per permettere alla gente di avvicinarsi a noi e di comprendere quello che facciamo e perché lo facciamo.